Salerno Fuoristrada Club, in collaborazione con Autoagropoli di Giacomo Trimarco, ha organizzato il 24esimo raduno nazionale 4x4 Città di Acciaroli, in programma nel weekend del 12 e 13 marzo prossimi. La manifestazione si articola su un intenso weekend che prenderà il via nella giornata di sabato in versione turistica, subito con un'impronta fuoristradistica poiché partendo da Agropoli, anziché indirizzarsi ad Acciaroli via asfalto. Si potrà affrontare con traccia GPS, uno sterrato gradevole che offrirà anche piacevoli scorsi panoramici attraversando il monte Tresino. Nell'intenso programma sono inclusi anche un'area espositiva con vari stand, ma pure la possibilità di partecipare ad un corso di avvicinamento alla guida 4x4. Domenica 13 ci sarà il vero e proprio raduno di Acciaroli, sempre molto atteso che si svilupperà su due differenti percorsi con caratteristiche diverse, ovvero il classico tracciato turistico di Acciaroli, spettacolare e tecnico, ormai ben codificato, ma anche il percorso tecnico hard, molto impegnativo, dedicato ai piloti di valida esperienza e soprattutto dotati di veicoli adeguatamente attrezzati, con gomme da fango, diametro almeno 80, verricello, radio CB, tripmaster, almeno un blocco del differenziale, stops, grilli e quant'altro. I veicoli e le dotazioni saranno verificate prima della partenza, non è garantita l'assistenza su tutto il tracciato. Il programma è così definito, sabato 12, dalle ore 15 alle ore 20, il percorso turistico con traccia GPS, area espositiva, corso di avvicinamento alla guida in 4x4, giochi serali, domenica 13, dalle ore 9 alle ore 19, area espositiva, percorso turistico e tecnico a Roadbook. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero WhatsApp 089 385 7590 oppure scrivere a club-salernofuoristrada.it